...che sarebbe il fatto dell'uomo che dà interseme nella luna, la persona dedicata a la nuova vita, diciamo, nei bambini, nei nuovi vita... ...e poi proprio diventavano credere che sono stati lasciati dalla gente, importate, recettate o quasi... la passeggiatta per petra mi almeno è parva sta corriendo, sta corriendo esa mula il guardo viene per il guardo si no, si no, si no, si no, si no, si no si no, si no, si no, si no si no, si no, si no si no, si no, si no, si no